Avviati i lavori di messa in sicurezza su un edificio lesionato dal sisma del 2016 situato in via della Fontana, sul Largo Turchi, nella piccola frazione Terramana di Villaripa. Interventi finanziati grazie alla protezione civile per un importo di circa 31 mila euro. Tale costruzione tra le più antiche nella frazione ha un importante valore storico ed architettonico. Le sue origini risalgono circa al 1400, anni in cui a Villaripa si avviava un processo di urbanizzazione. L'intervento che avevamo programmato già da diverso tempo, avevamo portato qui la protezione civile nazionale, nonostante il tempo trascorso dal vento sismico del 2016-2017, insomma ci facesse porre qualche dubbio sulla possibilità di accogliere la nostra richiesta. La protezione civile nazionale venne qui insieme a quella regionale, fece tutte le verifiche e siamo riusciti a far includere questa ulteriore messa in sicurezza che va a questo fabbricato che è del 1400, di un'epoca veramente storica, che ha un valore veramente importante per la frazione, per il borgo e non solo per il borgo, ma che incombe sulla pubblica piazza, quindi su questo largo Turchi, che in qualche modo rappresenta un pericolo per i cittadini che continuano ad abitare il borgo di Villaripa. E quindi siamo riusciti a far passare questa ulteriore messa in sicurezza, così come abbiamo fatto per il Regina Margherita, così come abbiamo fatto per tanti altri edifici. E il buon rapporto che abbiamo con la protezione civile nazionale e regionale ovviamente ci conforta sotto il profilo adesso del recupero di tanti lavori che potevano essere fatti prima, ma allo stesso tempo diciamo ci conforta sotto il profilo del fatto che continuiamo a fare attività collegate al sisma del 2016 e 2017. L'entità della somma non è eccessiva, però in tutti i lavori che si eseguono, specialmente per le messe in sicurezza, è l'importanza della messa in sicurezza sotto il profilo della sicurezza vera e propria dei cittadini che la abitano e dei cittadini che la vivono e in qualche modo rappresenta una somma importante che non poteva essere trovata altrimenti se non con la protezione civile nazionale.